sono la palla puoi fare la palla puoi fare la palla ala akbar timati timati brutto babuino 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 benvenuti 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 in questo nuovo episodio dei minigame sul suono di babbo natale su tutti i regali in questo episodio dei minigame andremo a fare gli enderman arrabbiati ci sono anch'io no tu non ci sei andremo a fare andremo a fare gli enderman arrabbiati in team let's skyfall team per chi non sapete cosa sono i skyfall sono dei nuovi spettro che è meglio esatto sono dei nuovi giochini bellini che ha giunto mainplex che sono di crush tra le skywords e le skywords solamente c'hanno le vita e tutti i kit sono sbloccati perchè sono dei beta let's go ok allora ok siamo qua dove sei? ehi team sei qua andiamo in questa andiamo in questa non ci arriverò mai nella vita andiamo in questa qua in questa qua dov'è? t'ho perso intanto sto qua a cercare di vediamoci dopo in un'isola in un'altra isola zitto io ce lo lascio in oro c'ho un diamante c'ho un diamante oh zio c'ho un diamante t'ho visto puoi fare la palla puoi fare la palla puoi fare la palla aspetta vado nel punto più alto così forse mi vedi lo vedi il centro? si c'è di fronte ecco sono in una di quelle isole intermedie ah la le v c'è l'isola al centro quella bucata guarda io mi butto adesso io mi butto al centro aspetta no la vedi guarda che mi butto al centro la vedi di dai la sede di tra oh c'è il titolo c'è il titolo picchia tutto un diamante mi faccio spada dai c'è il culo c'è il culo e' già non c'è la craft table tu dammi il diamante tanto si muoio muori è di sotto è al centro la craft table dobbiamo conquistare il centro tanto siamo in pochi aspetta conquistiamo il centro tieni ti serve un'arma di stick no ce l'ho c'è uno stick c'è uno stick ecco la frase ecco va dammi la stiglia ti proteggo io dammi la stick dai siamo rimasti noi hai un giallo e due bianchi ti serve una spada in ok 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 vai 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 risaliamo o comandiamo ah io aspetta non ho un arco c'hai un arco no e c'ho su due frecce perchè io non sono molto capace a risalire dal centro poi eh è difficile come fai devi praticamente andare su tutti quanti tunnel ma io c'ho paura che trebano quindi possiamo anche tentare ma guarda lì c'è un tizio lì c'è stato un altro dove 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 io direi di salire vieni io passo da lì e come facciamo a salire si può si può si ma difficilissimo io non ci dirò ecco ecco l'è arrivata è arrivato c'è un tizio no niente scherzo non è arrivato allora vai 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 io salgo da qui ti salgo da lì da lì eh io da lì non ci arriverò mai la vita da lì nemmeno no ma lì non so se c'è un gioco da quale unico modo oh ha rifillato il cesto ce ne stanno qua ma si se ha rifillato si ma qui non ce ne sono ci dovrebbe essere però ho paura ho paura ho paura da amare qua ci stanno troppo qua c'è troppo con l'arco i caschetti oh oh che scherziamo oh oh eeeh c'hai due quanti archi hai? uno però no non ci fai niente ho degli editar se vuoi io c'ho di sì io c'ho la c'ho la c'ho la t-lanciabile vediamo se riesco a panna qualcuno ma io direi che vado sopra aspetta dove sta? dove 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 dove? no scherzo ci ha dato delle robe è tipo un fantasma ma che dove sta? ma vedo piovere cose dal cielo ma non capisco io proverai a salire è una parola proviamola oh qua c'è eccola dove dove dove? appena ha preso il busto non lo vedo è là oh eccole è risalita in cima c'ho spavano in avanti però io c'ho meglio più armatura oh c'è TNT aspetta che al centro lo stesso è caduto è caduto è caduto ma è l'unica adesso dobbiamo andare in su eh quanto sono risalito lo picchio lo picchio lo picchio lo picchio lo picchio hallo Akbar io sono ancora al centro lo picchio lo picchio prendo il drop sono giu sono giu sono giu sono giu Х啊 ti picchi ti picchi ti picchi ti picchi lo ho ucciso Uno sta andando al centro Lo picchio, lo picchio No, no, c'ho poco cibo, c'ho poco cibo Prendo la cesta della vita, prendo la cesta Vabbè, tutto in diamante, tutto in diamante Ok, c'ho la cesta della vita Vieni, vieni, c'ho la cesta della vita Ti do le cose della vita, ti do Dove sei? Dove sei? Ah, ok Sono al centro Tieni, tieni, c'ho una spara in diamante per te Toh, c'ho le cose della vita io Dammi l'arco, dammi l'arco Non ce l'ho l'arco C'ho una spara in diamante adesso Dai, l'andiamo a darare Mi serve del cibo No, ce l'ho Lo sanno, l'avevo visto prima È possibile prendere così dall'alto, ok? Eh, è una parola, però, dove sta l'altro? L'avevo visto, no, si è buttato Poi, non lo trovo più Mi serve un arco Provo a fare un giro dall'alto Ah, eccolo, eccolo, lo vedo È qua in cima Vado a prenderlo da sopra Eccolo, si è buttato Dove, 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 dove il picchio? No, è là, è là Eh, tocca andare per forza in cima Oh, c'è la cesta, c'è la cesta Prendila Ah, ma è buota Vola, 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 vola Vola la pemaia, 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 vola la pemaia Vola qua, vola qua, vola qua, vola qua Ah, sì, ok S make up a che, che, perchè, perche prendere il rimbalzo? No, dai, ma non è possibile 80 rimbalzi ho preso Oh, no, 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 no Non m'ho preso a cerchi, sono morto Perché non m'ho preso il cerchio? Allora, dove sta il titizio? Non so Non lo vedgo Però sta Tutto Si sta tutto distruggendo Quindi dovrebbe Tendere da Qui non c'è Scendiamo Di livello Ma che sta a fare Ma tanto qua Crambola Mi sa che si è buttato Impicchiata di sotto No l'ho visto Ecco lo sta arrivando No È risalito Ma perché Ma è stupido Sento Cioè mi sento Arriva la La malignità Ma muore Sì però che cacchio Cioè muoviti Faccio le skill anche io Come on Dov'è Ma dai Come hai fatto Dimmi che non si è caduto Cercando di andare Sul cerchio Il cerchio l'ho preso Stato che io Non capisco Come si torna su Devi guardare in alto Questa cara Dobbiamo vincere assolutamente Ma io non so C'è Ma manco io Però non ci riusciamo Guardi Ebbene Non c'è la skin Di un diamante Vado Timati Timati Va bene Cominciamo Perché non mi attiva Ieritra Ho filata L'ho filata No io non ho pensato In maniera molto epica L'ho filata Sono al centro L'ho filata L'ho filata L'ho filata Sono al centro Ho perso Io qua qualcosa per te Amico mio Sono morto Non morire Non è vero Killers by Border The Mage Quanto può essere Scaffo Ma io non riesco a salire Stato Uccidere tutti Uccidere tutti Muore Giant Bistecca C'è una Bistecca gigante Giant Bistecca is my friend Giant Bistecca is my love Oh ci sono Giant Bistecca Adesso ci do anche quest'altro Killili tutti Muoresci Adesso dico che hanno scambiato Bene Ferugger Ah sei morto Van bene Andiamo con l'ultima Anche perché ci mancano due minuti Quindi Allora Dato che mancano due minuti Io direi di fare una Sky Wars Ah a cosa A cosa Al server Ah figo Vai facciamo una Sky Wars Quindi facciamo una Sky Wars Così che ci sta Perché è tattica Una schifo Slash Tiam Tiam Rica Siamo Amethista Siamo Amethista Siamo Amethista Ansegno del destino Ansegno del destino Amethista Presente A lui Amethista Amethista Il team vincente Ragazzi Sai una cosa Eh server Non rompe le scatole Eh appunto Ragazzi abbiamo due minuti Per vincere una Sky Wars Pronto Facciamo che vediamo Ammazzia E vabbè Eh vabbè Anticattamente Tutte le cose Vai 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 Tu non hai idea Il colpo Non hai fatto prendere Tattica 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 Tu c'era un babbino Vai Vabbè ci vediamo Solo due minuti Solo due minuti Vai 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 Ci arriviamo Ci arriviamo Ci arriviamo Vai C'è un tizio Piccchieri Picchieri Picchieri Tutto picchi Tutto Benissimo ragazzi Quindi Iniziamo con il video Se vi è piaciuto Lasciate like Commentate Con il video Se vi è piaciuto Con il video Passate In descrizione Dal nuovo sito Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao Ciao